Salve tutti amici di Amazon, velocissimo unboxing come potete vedere di questo dispositivo ovvero di questo gioco erotico che è un vibratore in confezione vedete che c'è semplicemente un foglietto di istruzioni con l'italiano che è scritto qui il dispositivo comprende un telecomando e la sua batteria semplicemente dovrete aprire questo vano, inserire la batteria e potrete accendere e andare a modificare le varie modalità di vibrazione molto comodamente il dispositivo possiede ben 10 tipologie di vibrazione e per scegliere la vibrazione che desiderate dovete passare mano a mano l'un l'altra fino a che trovate la vibrazione che più vi piace il dispositivo si presenta in questo modo totalmente in silicone senza nessun tipo di superficie che possa far male o che possa causare lesioni fortunatamente il dispositivo come vedete possiede il marchio CE quindi in teoria dovrebbe rispettare le normative europee quindi dovrebbe essere anche sicuro l'unica cosa che non mi va è il sistema di ricarica il quale appunto va effettuata dovendo bucare queste superfici in silicone tramite questo jack qua ecco nessuno mi assicura che a furia di inserire e togliere non si possa rompere una parte di silicone e che si non so possa succedere qualcosa ecco non mi rende sicuro questo sistema di ricarica comunque già il fatto che abbia un marchio CE è importante perché appunto significa che è stato certificato poi non posso sapere se è vero o meno perché comunque qua essendo un prodotto cinese questo qua semplicemente può essere anche stampato questo non lo posso sapere io non so come funziona questo genere di prodotti soprattutto se vengono dalla Cina comunque questo è il dispositivo vi lascio qui sotto una breve recensione scritta e nulla ciao ciao